abbiamo un alfa romeo anche questa è una versione è una 33 è una versione 1.7 no è un autovalvole un motore comunque 1.7 di cilindrata quindi piuttosto grosso quattro cilindri boxer una vettura che è stata all'evoluzione un po dall'alfa sud hanno diciamo migliorato e ingrandito questo motore boxer che è stato motore di grosso successo montandolo anche nella questa versione del 33 che anni è 80 a 93 quindi diciamo è una ventennale a 23 anni ed è non è la versione più potente che era la quadrifoglio verde ma comunque una versione già abbastanza performante grazie grazie grazie